Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo video andremo a parlare di Tokimeki Tonight, Ransi la strega, che avevo detto che avrei portato a una recensione di questa serie appunto, e infatti eccola qua. Prima di cominciare vi ricordo come al solito di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale, passate dal profilo di Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto, attivate la pannellina per non perdervi nessun video e ovviamente andate a vedere lo speciale dei 300 iscritti. Detto questo cominciamo. Tokimeki Tonight, Ransi la strega. Innanzitutto è uno shoujo, uno dei primi shoujo che leggo. L'autrice è Koi Ikeno e nonostante questa edizione della Star Comics sia recente, cioè se ho citato qualche mese fa, questa è una serie molto molto più vecchia. Infatti in Italia l'anime è stato trasmesso negli anni 80 con il titolo di Ransi la strega, mentre il manga è stato pubblicato dalla Star Comics nel 2002 a ottobre. Poi come ho detto della Star Comics, questa è la copertina, ve la faccio un attimo vedere. Dietro la costina e costa 5,90€ perché ha anche la sovracoperta. Poi altre due cose su cui mi vorrei soffermare, l'odore che è buonissimo e poi si sfoglia che è una meraviglia. Cioè è proprio morbidissimo, è bello leggere. Comunque anche le tavole sono belle, adesso ve le sfoglio un po'. Vedete se vi sfoglio un pochino, ovviamente senza fare spoiler. Bei disegni, si vede che sono vecchi. Comunque anche delle belle tavole. Vi leggo cosa c'è scritto qua dietro. Figlia di un padre vampiro e di una madre licantropo, Ransi Eto è una normalissima studentessa di seconda media ed è innamorata di Maccabe, il suo compagno di banco. Un giorno muorde accidentalmente la rivale in amore, Kamiya, ed ecco che i suoi poteri si risvegliano. Infatti la protagonista si chiama Ransi e suo padre è un vampiro e sua madre è un licantropo. La sua famiglia infatti proviene da un universo sconosciuto ai terrestri chiamato mondo magico. Ransi ha come peculiarità quella di assumere le sembianze delle vittime di un suo morso. Quindi se lei morde per esempio un lupo, diventa un lupo e lascia la sua vittima in stato incosciente. La trasformazione può essere annullata con uno starnuto. Quindi Ransi per tornare com'era deve starnutire. Ransi frequenta appunto la scuola media e si innamora infatti del suo compagno di banco, Shun Maccabe. I genitori però non vogliono, che vorrebbero che Ransi si innamorasse di qualcuno proveniente dal regno supremo e non di un essere umano. Lei sapendo questa cosa non dice nulla ai genitori, che comunque poi più avanti la scopriranno. Il padre è comunque un po' più elastico su questa cosa mentre la madre proprio non transisce. Quindi nulla, in questo volume ci sono un po' di non capitoli perché come ho detto non ha capitoli. Cioè non mi ricordo se l'ho già detto, comunque questo manga non ha capitoli. Quindi appunto non potete dire vabbè leggo un capitolo, poi mi fermo, lo leggo domani. No, questo va tutto dritto. Quindi appunto narra vari episodi, successi e a Ransi per tutte queste cose. Comunque secondo me questa qua è una serie molto carina. Ve la consiglio, in Italia per adesso sono certi tipo quattro volumi. Esiste anche un anime che però è interrotto una certa. Quindi vi consiglio di leggervi questo qua. Cioè secondo me è una lettura piacevole, un po' in stile Takashi, no? Tipo Rinne, Ranma Mezzo. È molto molto simile per certi versi. Quindi se vi piacciono quelle serie non posso fare altro che consigliarvi anche questa. Perlomeno dateli una possibilità. Io avevo letto pochissimi Shoujo, comunque ne conoscevo molti pochissimi. E questo devo dire mi è piaciuto un sacco. Quindi sicuramente lo continuerò. Anche se appunto per essere della Star Comics costa 5,90 e poi è un po' faticoso leggerlo perché non ha capitoli. Quindi anche lì devo vedere un po' quando fermarmi, se non c'è un buon punto adatto per fermarsi, devo andare a dritto. Però comunque lo continuerò lo stesso perché è bello. In Giappone il manga dura 30 volumi, ma io spero che in Italia duri meno. Cioè che il contenuto di 30 volumi giapponesi possa essere contenuto in molti meno volumi in Italia. Perché sinceramente una serie così che va avanti 30 volumi forse potrebbe essere un po' eccessivo. Comunque se voi la conoscete o l'avete letta fatemi sapere cosa ne pensate. Nel caso non l'aveste letta ve la consiglio, quindi prendetela. Almeno ho dato una possibilità al primo volume perché secondo me è uno shoujo molto carino. Bene raga, questa era la recensione di Toki Maki-tunite Ransi La Strega. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Detto questo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga. Grazie. Grazie.